Sono a disposizione 5 milioni e 120 mila euro per le agevolazioni tariffarie pensate dall'autorità idrica toscana inseriti nel nuovo regolamento regionale delle agevolazioni alle famiglie in difficoltà economica. Il provvedimento interesserà quasi 32 mila toscani per una media di rimborsi di circa 162 euro sulla bolletta annuale. L'autorità idrica ha approvato un regolamento che permette a tutti i comuni della regione toscana di poter disporre di fondi per il rimborso di almeno un terzo della spesa annua degli utenti fino quasi al rimborso completo. I bandi saranno deliberati da ciascun comune con scadenze, modalità e disponibilità economiche differenti da zona a zona, da città a città. Unica eccezione è il territorio di Arezzo dove i comuni dell'area hanno delegato il gestore nuove acque alla conta degli aventi diritto ai rimborsi in bolletta. E' sempre in tema acqua, in questo caso però il riferimento ai rincari delle tariffe idriche prende parola anche Confesercenti dopo un confronto con il Comitato Acqua Pubblica. Proseguiamo, ha detto Mario Checaglini, direttore dell'Associazione di Categoria di Via Fiorentina, l'impegno destinato a contrastare un carobolletta sempre più insopportabile per aziende e famiglie. Per il 2017 l'aumento del 4,8% di nuove acque rappresenta un'ulteriore impennata intollerabile. Confesercenti dice e conclude che Caglini che è arrivata l'ora di uno stop alle bollette. L'appello è ai sindaci che sono azionisti atto e che regolano i rapporti con nuove acque. Sono loro che devono porre limiti e freni. Ci vogliono politiche ed investimenti che non pesino sulle tasche dei cittadini. Un aumento che sfiora il 5% è il peggior modo per iniziare il 2017. L'appello è il 2017. L'appello è il 2017.